L'Ermea Olbia torna alla vittoria nella due femminile di volley e può ora puntare alla pool promozione. 3 a 0 il finale della gara contro Montale con i parziali 26-24, 25-20 e 25-19 ed un successo che consente alle Olbiesi di agganciare Albese sconfitta 3 a 0 a Busto Arsizio al sesto posto della classifica, l'ultimo utile per accedere alla pool promozione. Primo set giocato sul filo dell'equilibrio con gli ospiti che vanno in vantaggio fino all'8-11 il sestetto di Dino Guadalupi capovolge però la situazione portandosi sul 16-13 e il set prosegue poi sul batti e ribatti fra le due formazioni fino ad arrivare ai vantaggi e con l'Ermea che chiude con un servizio vincente della Bulaic. Nel secondo parziale Montale prova a scappare avanti ma le Olbiesi arrivano sull'11 pari grazie ad un'ottima prova del muro. Ermea va in vantaggio sul 19-15 poi chiude il set sul 25-20. Terzo set invece tutto in discesa per le ragazze di Guadalupi con le ospiti ormai demotivate 11-8, 16-12 fino al 25-19 che mette fine alla gara. Ora l'Ermea si giocherà tutte le speranze per accedere alla pool promozione nell'ultima gara della stagione regolare in trasferta sul campo di Lecco.